Apertura col pienone per la 36esima edizione del presepe vivente di Montenero di Bisaccia, uno dei più longevi del Molise, che negli anni è cresciuto sempre di più e che è entrato nel cuore non solo dei molisani, ma dei tanti visitatori che arrivano apposta dalle altre regioni. Un'atmosfera unica e realistica grazie all'incantevole scenario delle grotte arenarie, quest'anno maggiormente valorizzate con un'illuminazione studiata nei minimi particolari grazie a un progetto realizzato in collaborazione con gli studenti dell'Ipsia di Montenero. Oltre 200 i figuranti per un presepe che richiede mesi e mesi di preparazione. Dietro le quinte il lavoro instancabile della Proloco Frentana. Quanto lavoro c'è dietro il presepe? Sempre tanto. Progettazione, poi realizzazione, naturalmente anche messa in sicurezza delle aree e quant'altro. Sicuramente quattro mesi. Usciti dagli eventi di agosto, dell'estate montenerese, parte immediatamente la progettazione e di conseguenza tutta la parte fattiva per arrivare poi fino a dicembre. Tante le novità di quest'anno, scene rinnovate con attrezzi e macchinari di una volta. Nuove scene, abbiamo rinnovato il trabocco a cui noi tenavamo tanto proprio perché fa parte della tradizione della costa abruzzese e molisana e quindi è stato rinnovato. Poi ci sono delle scene in cui ci sono piccoli artigiani con delle attrezzi che per qualcuno sconosciuti, anche per me devo dire. Qui nella piazzetta dove c'è la battitura del grano c'è per esempio la fabbricazione delle corde, che erano anche queste legate poi alla pesca e quant'altro. E più su, come vedrete, c'è un oggetto molto particolare che potrebbe essere il trapano dell'epoca. Diciamo che è un trapano a volano che si utilizzava per fare piccoli buchi per riparare cocci, porcellane o quant'altro. Quindi tanti piccoli particolari che comunque arricchiscono l'insieme. Ricordiamo gli appuntamenti del presepe. Sì, i prossimi sono il 28 e il 29, sabato e domenica. Quest'anno abbiamo inserito il primo, capodanno, e poi 5 e 6. Il 6 ci sarà il corteo dei Maggi, come al solito, che poi chiude l'evento. Entusiasti i visitatori all'uscita del percorso che culmina con la natività. Da dove viene? Da Vasto. La prima volta che lo vede? Sì, la prima volta. Ne parlavano bene, sono minuti, bello, veramente. E' bellissimo, suggestivo. Uno spettacolo, una cosa bellissima. Da dove viene? Da San Salvo. La prima volta? Sì, la prima volta che lo vedo, sì. E' una cosa bellissima, veramente. E' bellissimo, veramente bello. Tra i visitatori anche uno d'eccezione, Mauro Caciari, ex inviato delle Iene, ora conduttore di Radio 2. Il presepe è bellissimo, grande, pieno di persone, pieno di idee, anche di cose tecniche molto ardite. Lo dice uno che arriva da Lumbria, quindi di spiritualità, presepe di venti, insomma, ce ne abbiamo storicamente anche noi. E quindi è veramente magnifico. Venite nel Molise, che esiste, lo sapete, a Montenero di Bisaccia, perché questo presepe, che abbia visto io, è il più bello che abbia mai visto.